Il nostro fiume Papiretto, raffigurato nelle vesti di un'elegantissima, una bellissima donna distesa, tiene in mano un flauto, il flauto di una divinità greca importantissima, Pan, che possiamo tradurre in modo un po' somario quale dio del sesso per il sesso, al contrario di un eros che è l'amore sentimentale. Strano trovare un tale riferimento in mano a questa donna, se non per la posizione precisamente nella quale troviamo questo flauto, distante da lei, in lontananza, troviamo dietro questo flauto un cavallo, il più famoso dei cavalli greci, Pegaso, del quale sappiamo bene che è un cavallo siciliano, nato dal corpo scollato e collato di Medusa, ad opera di Perseus. Siamo a Siracusa, ed è il mito fondamentale, mito di fondamenta della stessa Sicilia. Siamo a Siracusa, ed è il mito fondamentale, mito fondamentale, mito fondamentale, Grazie a tutti.